Buongiorno e benvenuti nella sedia stampa di oggi, sabato 17 giugno. Sui giornali oggi c'è molto che riguarda la politica, c'è molto che riguarda lo sciopero, non c'era bisogno di arrivare a oggi per capire che lo sciopero di ieri avrebbe paralizzato le città italiane in un momento clou come questo, come sempre d'estate e soprattutto di venerdì in maniera tale da rompere le balle in maniera incredibile a tutti quanti i consumatori. Per l'ennesima volta, il giorno dopo lo sciopero, c'è un ministro che si alza e dice oggi sui giornali, non è possibile, è indecoroso, è inutile che ce lo raccontano, è inutile che gli opinionistici lo raccontano. Gli opinionistici dicessero che per anni hanno alimentato il diritto di sciopero come diritto fondamentale e non comprimibile, ci raccontassero sempre che i lavoratori hanno sempre il privilegio rispetto ai consumatori e poi dopo ci lamentiamo se questo avviene. In realtà questi scioperi sono figli di una cultura per cui quando scioperavano Cigello, Cisle e Will, che oggi si separano completamente da questi scioperi, era tutto legittimo, siccome adesso sono i Cobas e invece la cosa è illegittima, erano probabilmente sopprusi prima e lo sono oggi. Ma il punto fondamentale, e questo oggi non lo leggo sui giornali, quello che oggi non leggo sui giornali e la cosa che più mi indigna è quello che è successo a Filippo Facci. Filippo Facci è un mio amico, quindi sono in conflitto di interesse, è un giornalista che oggi scrive sul Libero e un anno fa, dopo l'attentato d'inizio, dopo i cento morti, dopo Parigi, dopo i grandi attentati dei fondamentalisti islamici, scrive un pezzo in cui dice io odio l'islam, il diritto è la rivendicazione all'odio, Filippo Facci è la persona meno violenta che voi possiate immaginare, il suo è un intellettuale, il suo è un odio intellettuale nei confronti di una religione e dei religiosi, potete essere d'accordo o non essere d'accordo. Quello che è certo è che in questo paese in cui tutto è legittimo, in cui è legittimo tenere i venerdì ogni volta le persone a casa, in cui è legittimo limitare il diritto di proprietà, il diritto dei trasporti, il diritto alla mobilità, il diritto in cui si può manifestare, in cui si possono distruggere le città con le Molotov, in cui si possono andare allo stadio a urlare, in cui si possono dare le carezzine ai poliziotti, in cui secondo me in maniera sacrosanta si può anche essere fan dei Notav come ha fatto Henry De Luca, bene, in un paese come questo Filippo Facci non può scrivere sul Libero che lui rivendica l'odio nei confronti del fondamentalismo islamico e sapete perché? Perché l'ordine dei giornalisti, la commissione dell'ordine dei giornalisti di Lombardia lo fa fuori per due mesi, cioè Filippo Facci per due mesi non potrà avere lo stipendio, non potrà scrivere, perché noi giornalisti siamo purtroppo, purtroppo, ancora il diritto spero di dirlo, purtroppo e nessuno può togliermi dall'ordine dei giornalisti nel fatto che io dica che purtroppo siamo obbligati ancora a essere iscritti a quest'ordine dei giornalisti, acquidiamo 110 euro all'anno e dietro a questi 110 euro all'anno abbiamo dei corsi che dobbiamo fare di qualificazione che sono delle minchiate pazzesche in cui paghiamo degli altri e poi essere sottoposti a un consiglio di disciplina che si alza una mattina e dopo un anno decide che Filippo Facci non può più scrivere sul giornale per due mesi per un articolo che ha scritto questi sono dei fascisti, mi volete tirar fuori anche a me dall'ordine dei giornalisti? Ma chi impedisce a Filippo Facci di scrivere una cosa che non è importante che voi la condividiate o non la condividiate, esiste qualcuno che può condividere, esiste qualcuno abbiamo sempre raccontato che il minculpop questo faceva, ebbene noi oggi abbiamo una commissione di vigilanza e di disciplina dei giornalisti che decide quello che Filippo Facci può scrivere o può non scrivere, vi può fare schifo quello che scrive Filippo Facci, potete odiarlo, sapete cosa fate? Non vi comprate il giornale, lo contestate, dite che è un islamofobo, vi inventate quello che volete, ma l'idea che lui non possa scrivere per quello che ha scritto è una cosa che mi ripugna ed è l'antitesi del nostro mestiere, quello di fare i giornalisti, io sono disgustato da quest'ordine dei giornalisti, sono disgustato dal fatto che oggi solo tre giornali ne parlano, il giornale con un pezzo favoloso di Alessandro Sallusti che sa benissimo cosa vuol dire l'accanimento dell'ordine dei giornalisti nei confronti dei giornalisti non allineati, Vittorio Feltri che è un altro che conosce benissimo l'accanimento dei giornalisti nei confronti dei giornalisti non allineati e poi per la verità in toro minore Borgonovo, ma comunque lo fa La Verità di Maurizio Belpietro in cui dice che Filippo Facci è esagerato, ma il tema Borgonovo, e io ringrazio secondo me se forrissimi Filippo Facci che tutti costoro hanno scritto, il problema non è che ha esagerato e chi decide che esagera Filippo Facci? Perché non può esagerare? Perché non può scrivere quello che vuole su un giornale? Non sta facendo un atto eversivo, sta scrivendo su un giornale una cosa molto sacrosanta, peraltro secondo molti, e cioè il fatto di rivendicare la possibilità di odiare chi ci odia, o no, o non è una cosa che possiamo scrivere. Detto questo, togliere, come dice Letta, la libertà di parola a Filippo Facci e al suo essere giornalista è una cosa disgustosa, disgustosa per il silenzio tra l'altro totale, come sempre avviene tra i cosiddetti colleghi, il silenzio totale dell'ordine degli altri ordini. Ovviamente molti saranno contenti perché hanno posizioni no, il giornalista deve essere sempre il giornalista illuminato, quello che deve avere la posizione più corretta, più politicamente corretta. I giornalisti che hanno insultato Berlusconi, i giornalisti che si sono inventati le favole su Renzi, quelle riguardo alle sue indagini, quelli che si sono inventati le favole su Craxi, secondo alcuni, quelli che si sono inventati le favole su Berlinguer, quelli che si sono inventati le favole sulle Brigate Rosse, tutti questi giornalisti qua continuano a pontificare. Abbiamo un establishment di giornalisti che hanno fatto parte di lotta continua, da Paolo Mieli al mio amico Paolo Liguori, al mio amico Andrea Marcenaro, scrivono per tutti i giornali perché tutti quanti possono aver fatto, possono aver detto, essendo giornalisti, quello che gli pare. Ma Filippo Facci no, perché Filippo Facci ha parlato dell'Islam, giusto forse in questo però il titolo della verità, sottomissione, è il libro di Hulebeck, si inizia per, e anche forse è anche una delle grandi verità di Baudelaire, all'inferno si scende a piccoli passi e l'idea che Filippo Facci sia stato sospeso nel silenzio generale due mesi dall'ordine giornalisti, dal consiglio di disciplina degli ordini giornalisti è una cosa che non solo mi fa incazzare per Filippo Facci, ma mi fa incazzare perché fa, ecco se l'è cercata, vedi, se l'è cercata, mi fa incazzare perché questo è il segnale di una società per cui chi critica l'onda lunga deve essere per forza azzettito, è una cosa disgustosa, io combatto perché ci siano i Filippo Facci e ci siano anche quelli che pensano esattamente all'opposto, che siamo noi cristiani a essere una religione schifosa ad esempio, chi se ne frega se lo scrivessero, io non li condivido, ma se lo scrivessero ciao 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 ciao